La bella stagione alle porte e l'amministrazione fanese è già all'opera per migliorare quei piccoli interventi che fanno la differenza. Sono iniziati venerdì scorso, in zona Fosso Seiore, i lavori di ammodernamento del ponticello che attraversa la foce e che collega il sottopasso ai camping vicini. A questi si aggiunge anche lo sfalcio della vegetazione lungo la ciclabile. Negli ultimi anni l'aumento considerevole del traffico pesante ha messo in evidenza anche delle criticità di quelle che erano le strade. In una ricognizione abbiamo notato, anche per colpa di incidenti di ignoti, l'ammaloramento di alcuni guardrail e di alcune parti. In questo caso specifico ci troviamo a Fosso Seiore dove stiamo provvedendo alla sistemazione sia del ponticello di quelle che sono le parti di calcestruzzo ammalorato ma anche alla sostituzione del guardrail qui a posto con un nuovo materiale che è il corten, appunto un materiale che di fronte al mare, la salsedine, avrà una manutenzione migliore. Lo stesso materiale verrà applicato nella zona di Sassogno vicino ai cocarde perché interverremo anche lì. Ma non solo, eccoli qui gli altri interventi che proseguiranno verso le zone interne della città. Sono 13 infatti i guardrail individuati dal comune e che verranno presto sostituiti. Tutti i punti con le località interessate sono consultabili sul nostro sito occhioallanotizia.it Naturalmente è un intervento di messa in sicurezza di quello che è sia la parte estetica ma soprattutto di funzionalità di quelli che sono i guardrail perché proteggono la strada dalle parti adiacenti. È un primo stralcio di progetto, quindi parliamo di 13 interventi, al quale in un secondo tempo ne seguiranno degli altri che in questo momento abbiamo in qualche modo anche identificato. Inoltre oggi sono anche partiti gli interventi di riqualificazione del parcheggio di via del Risorgimento, quello a fianco del commissariato di polizia di Fano. Verrà chiuso fino a giovedì per la messa in sicurezza di quello che è lo stato della pavimentazione perché oggi versava in condizioni davvero disagevoli per cui metteremo uno stabilizzato che quantomeno renderà l'area uniforme in attesa del progetto dell'assessore Tonelli che partirà a breve.